Non rinnego nulla. Quindi avevi accantonato Alessandro? Sì. E c'era Riccardo? Sì, perché quando è rientrato Riccardo le sensazioni che avevo non è che erano passate del tutto, quindi mi do ancora quella possibilità, cerchiamo di darci ancora quella possibilità, però le cose non sono andate e secondo me caratterialmente non ci siamo trovati. Ma che cosa rimane di quella storia? Tra una cosa e l'altra cinque anni di tira e molla, no? Sì, infatti è stata una storia molto travagliata. Un anello di fidanzamento restituito. Anche. Ripeto, io quell'amore l'ho vissuto talmente tanto immenso e tanto forte che oggi ti posso dire è passato, però è stato bellissimo viverlo nel bene e nel male, ma è stata una storia molto forte. Ti sentite di aver detto che volevi un figlio da lui? No, no, perché in quel momento io lo volevo, come tutti i sentimenti nei confronti di Riccardo, quelli che ho dichiarato sia a maggio e nel frattempo e nei quattro anni, non erano finti, erano tutti veri, quindi è stato grande. Grazie. 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 Grazie.